Cricchi qui e fa tutto lui. Ma che papà tecnologico! Magari mi sai anche consigliare un bravo dentista. Avanti come te però, eh? Facile! Dental Pro, il mio. È qui vicino. Ma costa una fortuna? Fidati! In Dental Pro, con 270 centri in Italia, lavoriamo per rendere le cure dentali di qualità più accessibili. Ciao tesoro, com'è andata? Da Dental Pro? Bravissimi. E anche gentili. Ma mai come te, eh? Dental Pro, facile da consigliare.